L'iniziativa di questa Santa Messa all'Oasi di Preglia è nata dall'incontro nel periodo più scuro nel senso di lockdown, di isolamento, della non possibilità di stare con gli amici tra me e Don Marco che facevamo la spesa e abbiamo pensato che appena fosse possibile, appena la possibilità, il Covid sarebbe stato un po' sotto controllo, sarebbe stato bello ricominciare tutto con una Santa Messa proprio qui all'Oasi per stare insieme ai nostri amici, per stare tutti insieme alla comunità e per riniziare. Questo 2020 è un anno in cui abbiamo dovuto sospendere tutti gli eventi, tantissimi eventi già in programma nella nostra comunità di Crevola d'Ossola ma questo sarà un anno soltanto di riposo perché poi il 2021 sarà sicuramente scoppiettante, pieno di idee quindi questo è soltanto un punto di rallentamento per poi ripartire alla grande.